Mi chiamo Lisabetta Vacchetto, sono di Alba e studio vivo ad Oxford, dove faccio la fotografa. Insieme a Cosimo Damiano Motta, di Genova, e Pierangelo Vacchetto, mio papà, entrambi fotografi per passione, abbiamo dedicato molto tempo del nostro lavoro alla memoria e lo facciamo ancora. Nel 2017 con la prima mostra 50 Folk Beat, Viaggio intorno alla memoria collettiva e individuale, che è stata ispirata anche a Auschwitz e alla bomba atomica, e nel 2021 con la mostra Leggere per non perdere il filo e la memoria, che ora è esposta alla biblioteca universitaria di Genova. Entrambe le mostre hanno avuto come filo conduttore la memoria e certamente quella che viene ricordata ogni anno il 27 gennaio, con la giornata dedicata dalle Nazioni Unite e celebrata in tutto il mondo per ricordare la fine della Shoah e gli avvenimenti orribili dei campi di concentramento. Ma anche la memoria collettiva, in generale, è quella individuale da non perdere, che lega gli uomini alla propria storia, perché crediamo fortemente tutti noi che non ricordare continuamente, o peggio dimenticare, sia la chiave che può aprire le porte a nuove tragedie e nuovi dolori collettivi e individuali. Per questo noi fotografiamo la memoria, per non perdere, perché senza memoria il genere umano è una scatola vuota. È una scatola vuota che può essere programmata e utilizzata contro lo stesso genere umano. Perciò diciamo che la memoria è un dovere, ma soprattutto è un dovere di tutti, anche delle istituzioni comprese, non semplificare mai la storia.